Prima di iniziare il video, ti ricordo di iscriverti e di attivare la campanella per ricevere le ultime notizie. Grazie. Nel suggestivo scenario montano delle Dolomiti, la celebre conduttrice si è fatta strada su due ruote, catturando attimi di pace con il suo smartphone. Ma non è solo questo a far parlare di sé, poiché Hilary Blasi e Bastian Muller dimostrano di essere più innamorati che mai. I dubbi e le speculazioni sul loro rapporto sono stati fugati da un'escursione appassionante a Cortina d'Ampezzo, immortalata in fotografie che irradiano gioia e serenità. Contrariamente alle voci di addio, la storia tra Hilary Blasi e il fidanzato tedesco Bastian Muller è ancora solida. Dopo un periodo di vacanza spensierata in Brasile, i due si sono riuniti a Cortina d'Ampezzo per un'entusiasmante avventura in bicicletta tra le maestose montagne. Le loro foto raccontano di un amore vivace e autentico, smentendo ogni pettegolezzo. Un breve intervallo a Porto Cervo, insieme alle amiche, tra cui Michelle Hunziker, è bastato per smentire i rumori di una presunta rottura. Il ritorno nella capitale, seguito da una fuga in Costa Smeralda, ha rivelato che la complicità tra Hilary e Bastian è più forte che mai. La magia dell'estate tra le Dolomiti è stata lo sfondo di questa avventura per la coppia, che ha scelto di esplorare i sentieri montani su due ruote. Le immagini catturate mostrano il loro amore mentre si tengono per mano durante il pedalare e si immortalano come un autentico duo, testimoniando la loro intesa. Questa esperienza dimostra che le voci di turbulenze erano infondate. Bastian Muller, sebbene impegnato in affari, ha fatto il possibile per essere al fianco di Hilary, dimostrando che il loro legame è solido e duraturo. Le Dolomiti hanno assistito a un capitolo romantico della loro storia, confermando che il loro amore brilla più forte che mai.